E' stato il 91enne Gioacchino Battaglia, storico ciclista vittoriese, vincitore di tantissime gare, tra cui un campionato italiano, ad inaugurare l'edizione 2012 della gara ciclistica Coppa San Giovanni, che si svolge puntualmente in occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono. Lo sport si fonda con il culto di San Giovanni Battista e il centro storico si trasforma in un circuito spettacolare per ciclisti provenienti da tutta la Sicilia. E' ieri mattina il centro storico Ipparino, le splendide piazza del popolo e piazza ricca, hanno fatto da sfondo la gara ciclistica Coppa San Giovanni, inserita nel calendario del campionato Cisane ed Estesa agli enti di promozione sportiva. Circa 80 partecipanti alla manifestazione provenienti da tutta la provincia e fuori provincia, divisi in due partenze in base alla categoria di appartenenza. In una giornata calda e assolata, con un pubblico festante, tanti ciclisti ha preso il via dunque l'edizione 2012 di Coppa San Giovanni. Nella prima batteria i vari atleti si sono distinti per una dimostrazione di forza, le squadre partecipanti si sono contesi giro dopo giro, le prime posizioni, un bravo Alessia spuntarla a pochi giri dal termine con una bella figura, a portarsi così al traguardo, dietro di lui, innevolata, tiralongo, comandatore, baglieri e giriberto. Nelle seconde batterie i primi giri hanno visto un mortillauro avanzare con forza per essere ripreso più volte, così anche Cutrone di Martino, Liva e Vella. A 11 giri dal termine vediamo un Cutrone determinato prendere un bel vantaggio e gestirlo sino al traguardo, dietro di lui, in volata, tutti gli altri.